Io non posso fare il tifoso però lo sono, forza Giulia, forza, forza, ale, 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 e vince, ahimì, ecco il gruppo, ecco il gruppo volata, regolato dalla Alessio, Alessio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Giulia, oggi vincitrice qua nella gara di casa a Carpaneto al termine di una fuga, hai vinto tu la volata ristretta, raccontaci la fase finale di gara. Allora siamo partiti agli ultimi due chilometri, grazie alle mie compagnie di fuga siamo riuscite a portare a termine la fuga dando un po' di stacco al gruppo e siamo arrivate. Senti, la gara di casa vale il doppio, a chi la dedichi? Allora la dedico soprattutto ai miei compagni di squadra perché grazie a loro che hanno tenuto fermo il gruppo noi siamo riuscite a prendere un po' di stacco e anche ai miei allenatori e ai miei genitori che hanno sempre creduto in me.